Santuario dei Santi Vittore Corona gremito domenica 12 maggio in occasione della Santa Messa con la quale si è aperto ufficialmente l'anno paliesco 2024 che vedrà il culmine con la manifestazione agostana e con la quale inoltre i quattro quartieri e il gruppo sbandiratori Città di Feltre hanno omaggiato i Santi Patroni. Un appuntamento sempre molto atteso da tutta la comunità feltrina e non solo, durante il quale è stato svelato al termine della Messa il nome dell'artista autore del drappo di questa 45esima edizione. Il palio di Feltre è orgoglioso ed entusiasta di annunciare l'artista che è stato incaricato di realizzare il drappo del 2024 che è Tobia Rava, uno degli artisti veneti più apprezzati a livello nazionale e internazionale. Padovano d'origine, Rava lega il suo nome ad una ricerca artistica che pone al centro valori sostenibili, temi naturalistici e scientifici assieme. Sue esposizioni si sono tenute a Roma, New York, Venezia, solo per citare alcune città d'arte. Perché Tobia Rava? Molte sono le ragioni, ma quello che ci ha davvero convinto sono i diversi livelli di lettura presenti nelle opere di Tobia Rava, così come diversi sono i livelli di lettura che caratterizzano il palio. Oltre a svelare il nome di Rava, vi è stata la riconsegna del drappo dei 15 Ducati d'oro da parte del quartiere Duomo, vincitore dell'edizione 2023, alla quale è seguito lo spettacolo conclusivo dei gruppi nel chiostro della Basilica. La magia del palio di Feltre è dunque ufficialmente iniziata, per un evento capace di condensare tante sfaccettature differenti. Non una mera rievocazione storica, ma davvero un momento importantissimo a livello sociale per la città di Feltre e un valore aggiunto a livello culturale, turistico, economico e promozionale per Feltre, per la provincia e per tutto il territorio regionale.